Ci sono comuni della nostra provincia che fanno notizia e in questo caso sono notizie positive, tanto che le nostre cittadine salgono ai piani alti delle statistiche. L'associazione Open Police, l'osservatorio civico della politica italiana che si occupa di dati pubblici, ha di recente pubblicato due analisi approfondite che fotografano la presenza delle donne nei posti apicali della politica delle aziende ed un'analisi sulla spesa pro capita dei comuni per le scuole d'infanzia. La prima ricerca, intitolata Trova l'intrusa, spiega come il ruolo delle donne si è salito nei posti di comando con presenze spesso superiori al 30%. Una fotografia della situazione dal governo al Parlamento, dalle regioni ai comuni alle istituzioni europee, ma anche nei posti di comando delle varie aziende. A pagina 11 del dossier il riferimento è per Verbagna. Si legge nel dossier, a Verbagna ad essere sovra rappresentate sono le donne che pesano un 71,43% dei componenti della giunta. Giunta che come noto è composta da solo un uomo più il sindaco Silvia Marchionini e altre 5 donne. Verbagna fa parte con altri 10 comuni italiani di quelle città dove la presenza di donne o uomini risulta squilibrata. Veniamo ora all'infanzia. L'analisi è stata fatta su quanto spendono le realtà locali per le scuole dell'infanzia, che sarebbero 23.000 su tutto il territorio nazionale. Scopriamo che ci sono due comuni ossolani tra i primi 100 in Italia, tra quelle che più investono nell'educazione per i più piccoli. Si tratta di Seppiana, l'analisi risale infatti a quando era ancora separata da Viganella. Seppiana è al quinto posto in Piemonte e al 48esimo in Italia con una spesa di 188,31 euro pro capite. Poi c'è Anzola, settima in Piemonte e il 57esimo in Italia con una spesa di 168,82 euro a testa per cittadino. Più staccate, Premia al 497 posto e poi Montecrestese al 550esimo posto.